Voglio manifestare tutta la mia solidarietà a Cesare Minniti, giornalista impegnato e lavoratore indefesso e con amarezza che apprendo della vile aggressione che ha subito mentre svolgeva il suo lavoro di servizio alla città e per i cittadini. Ma la verità purtroppo non solo non piace vedersela sbattere in faccia e ciò perché la nostra amata nobile Reggio ha anche un lato oscuro, una mentalità che va ad ogni costo estirpata. L'aggressione gratuita al giornalista Minniti ne è una prova lampante, una vergognosa e indegna messa in scena di gratuita follia, inciviltà e ignoranza a danno di un operatore nel pieno delle sue funzioni professionali e soprattutto a danno dei regini altrettanto onesti e pronti a lottare per fare risorgere Reggio. Il mio pieno appoggio e sostegno va a Minniti all'emittente Reggio TV e al suo editore che come sempre si fonda e si batte per la legalità e il buon giornalismo e a tutti quei giovani professionisti che non lesinano le fatiche quotidiane pur di trasmettere quell'unica verità. Se anche una gretta coscienza è ormai il nome tutelare di una piccola parte di questa nostra bistrattata città, se anche c'è chi fa finta di niente rispetto a episodi come questo che inneggiano alla violenza senza senso e se anche nessuno volesse più crederci, è altamente giusto e lecito, è un dovere civico, mostrare la realtà, raccontare il marcio, denunciare l'iniquità. Su questo Cesare Minniti e Paladino, di questo facciamo ancora una volta la nostra bandiera e ci sentiamo orgogliosi di avere un giornalista come lui al servizio e senza se e senza ma.